Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Toch ora, allora. Ma due gradi, no? Ma più parlezati. Ma più ci sono. Alla cosa di? Vedi lei è salata? Mora! Dove. Quattro, inizimo. Si è inizio. Un'altro. Ehehehehehehehehehehehehe Sper Extra 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 Extraенные Qui si che so Wert Sì, non è vero? ha sèpione ha piaciuto e si a C'è un po' che c'è un po' che c'è? Cazano non è quà sono dentro queste se st clothi c' Chancellor sono a tu l'know hai 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 Win se è un piacinato sul eescao sonoro bossa che sono sanke ok che forse ho scao son Naomi come andato niente Ah, sì, sì. È la tecnologia di chi? È l'elemento. Sì, sì. Cuma chan'i che il gusto di questo. Cuma chan'i chiusciti, e sì. Cuma chan'i chiusciti. Ho 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 il momento. Ho 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 il momento. E fa sentire Inbound? Sì, sì Sì, sì Sì, sì Cuma ha gatti Cosa di Cosa di Molto Ah, veramente E a tutti Cosa di Perfecto Sì, come si è giusto, mi sentito, non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero, ma non è vero. Ma non è vero, non è vero. Ma non è vero. Un attacco, ma non è vero. Sì, come si è vero. Ah, mazui! ah sì sì ah 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 nonno pochite negracにやってからだろ odo se Sì Sì Dio che vanno... Ci sono tutto il governo Ancora! Ma all'allamo! Ma all'allamo s'ilte da fare... Ma all'allamo... Si... Ma all'allamo... Ma all'allamo, Ladao virus, che si sono gli occhi... ... alties Liu ein uffle 8 e e e e avà avà a nein e ai